Ero io, sembravo un paperino, invece no, era lionino Allora, oggi ammazziamo Aghiwaghi, siete contenti? Lo so, lo so, non si merita questa fine, però d'altro canto sì, se la merita Vediamo se mi ricordo il codice, allora, giallo, rosso, rosa, verde No, non me lo ricordo, porca di quella, oh, venti volte ho giocato a questo gioco Non me la ricordo mai, come è possibile? Come? Non lo so, rosa, no, verde, rosa, giallo Ma Santa Maria, guarda, oh, è la memoria che ti frega, eh, sempre Comunque faremo a ucciderlo, ve lo dico tra un attimo, però ho un bel piano, eh Allora, verde, rosa, giallo, rosso, affambagno Poi, cassetta, tac, tac, acceleriamo il gioco a manettone, così ci togliamo il problemone Ecco qui, indizio su come uccideremo Aghiwaghi Secondo me voi avete bisogno di saperlo già da adesso Un po' mi dispiace bruciarvi la sorpresa, eh, però preferisco dirvelo perché così, sai, siete informati Se noi, quando lui esce, gli togliamo da sotto i piedi il pavimento Lui cade verso la morte, avete capito? La morte Inoltre, più avanti nel gioco, quando noi lo troviamo di solito che lui cade Perché lui dopo cade effettivamente, spoiler, ma ormai lo sapete Quando lo troviamo lì, se noi lo prendiamo, possiamo teletrasso E abbiamo il cadavere, avete capito? Eh, geniale, no? Geniale Però il problema è che potremmo anche ucciderlo una volta per tutte Cioè, nel senso, se noi lo facciamo cadere giù nell'oblio Già dall'inizio del gioco Ma è perfetto, no? Cioè, ci rimuoviamo il problema così da subito Secondo me è perfetto Già qui possiamo fare in parte questa cosa qui Perché noi, come sapete, possiamo distruggere qualsiasi oggetto Per esempio, io voglio distruggere questo Per dire, questo qua Il pavimento Ma non lo faccio, perché se lo faccio cado io verso la morte e rompo il gioco Non è il caso Però, per esempio, questa cosa qui Voglio rompere questa Bram! Rotta! E posso anche fare, posso atteggiarmi a forte Così Eh, Paperino è una bella bestia, eh Eh, allora, distruggiamolo, perché no? Perché no? Togliamogli il cartello che ha sulla testa, secondo me Perché a lui, quello a lui ci tiene, capito? Tra! Non ce l'hai più! Non ce l'hai più! Sì! Oh! Eh, fatelo anche voi nei commenti Fategli il verso Oh! Della potenza Poi, cos'altro hai? Questo cartello qua Ti piace questo, eh? Questo è il tuo giocattolo preferito, eh? Però! Oh! Non ce l'hai più! Lo so che sembriamo un po' bulletti E non va bene Però, è Agiwagi È un mostro Cioè, voi Tenete presente quello che fa lui dopo Cioè, lui diventa grosso Con i denti Che ci vuole mangiare Non è una bella cosa Cioè, nel senso, se lo merita Siamo tutti d'accordo, no? Cioè, scrivetemi nei commenti Se non siamo d'accordo Perché Sono disposto anche a A ritornare indietro A scusarmi con lui, eh? Se Sei rimasto male Che ti ho tolto tutti i giocattoli, eh? Anche i tuoi fratelli Questi qua Nelle buste Puzzurà! E questo qui Ok, questo Non è stato Non lo Non voglio Non voglio cadere Verso il vuoto E l'oblio Ho fatto un danno Però Voi direte Ah, Lion Sei un pisello Eh sì Però abbiamo la riprova Che il piano potrebbe funzionare Cioè, il piano che noi abbiamo avuto Potrebbe effettivamente funzionare Però abbiamo rotto il gioco un pochino Nel senso che adesso Noi come Cos'è quella stanza lì nera? Misteriosa! Fammi andare a spizzare Non lo so Non c'è niente dentro Cioè, c'è, c'è Ma Uh! E per un attimo Cos'è? Un muro? Un muro e basta? Vabbè Però Adesso Come ne usciamo da questa situazione? Che potrebbe essere spinosa? Eh, non ne usciamo secondo me È un bel È un bel trouble È un bel trouble questo Che ci siamo cacciati, eh Perché noi adesso cosa dobbiamo fare? Premiamo lì E il gioco va avanti però, eh Eh, lui ha la chiave Aspetta che Un attimo, eh signore Che Mi viene un po' male Grazie Adesso però io devo arrivare lì Qui Non posso perché non c'è più il pavimento però Bel problema questo, eh Vabbè, ci vado volando Per forza Perché se no Tocco E qui il pavimento c'è di nuovo però Cos'era quella cosa? Cos'è questo? Un cartello? Stop Employees only Era Poppy che Lei dà gli ordini, no? È la boss qua dentro È la boss Ok? È andato bene, sì Cioè, fin dove ero? Ho rotto solo qua Meno male Pensa a fare tutto il gioco Senza più il pavimento Sarebbe stato un bel problema Ciao Scusa, scusa, eh Ti rimuovo anche a te Non si capisco Non si capisce una fava Però io ho cercato di fare il mio meglio Mi sembra che abbia detto Non rompere a Chissimissi Però Solo questo Ha chiesto Dice Così Io ho detto Ho capito niente Però mi fido Mi fido di te Qua dobbiamo ripassare Quindi per il resto possiamo fare quello che ci aggrada Qua apriamo così In teoria dovremmo liberarci da questa stanza rotta Però qua manca pure il pavimento Maledizione Ma quanto sarà grande questo pavimento? Eh, perché Qua c'è Qui io credo di poter riapparire qui Sì Qua c'è ancora lui E' rimasto buggato Vedete che c'è lui Cazzo è più bruttissimo Guarda la bocca Oh, faccio bene a fargli le peste corna Secondo me Cioè lui è un Astro zozzone Secondo me noi non siamo i cattivi qua In questa storia è lui l'infame Però Sembrerebbe che di qui in avanti Sia tutto tornato ok Quindi possiamo andare avanti Certi di poter uccidere Aguag E qui il pavimento c'è di nuovo Quindi è andata bene Meno male perché Oh, se distruggevamo tutto Poi dovevamo riavviare il gioco Era finita, eh Prendiamoci i pezzi Qua c'è una seconda occasione Che noi abbiamo per romperlo però a lui E io lo farei assolutamente Perché lui qui appare lì Quindi se noi adesso Lì rompiamo tutto Lui dovrebbe rimanere fregato, no? Perché lui lì appare Per guardarci dalla bocchetta lì Dell'avent E noi lì Gliela combiniamo Sì Aguagui C'è arrivando l'aglioncino tuo Bli bl bl Quale manca? Quello lì Ormai li trovo Tutti me li possono nascondere Anche in capo al mondo Ma Non ce n'è più per nessuno E beh ormai sto gioco L'abbiamo fatto un po' di volte Sapete cosa mi avete scritto? Che io però Non so se sono d'accordo, eh Allora verde più giallo Fa blu Giusto Cioè in realtà non lo so Può essere Verde giallo blu Credo Non so sicurissimo Però dovrebbe far blu Quindi secondo me Quelle due mani Verde e gialla Voleva dire che lì Tu devi acchiappare con la mano blu Poi mi avete detto Che verso la fine C'è un altro colore di mano Effettivamente c'è un po' dappertutto Che è la mano verde Che noi non abbiamo Quindi voi avete detto Magari nel prossimo capitolo Ci sarà un'altra mano E io ho detto Boh può essere Però Dove la porti? Cioè nel senso Tu hai due mani Normalmente hai due mani Se c'è una terza mano Che cosa dovrebbe essere? Ho pensato al PZL Però è un po' volgare Quindi chiedo subito scusa È stato subito un pensiero E mi è venuto così Magari C'avrai le gambe Non lo so O una terza mano in generale Da sopra Tipo proboscide Boh Vabbè Prendiamo il guantino Attenzione perché lui adesso Fuoriesce Se non c'è già Se non c'è già Non dovrebbe esserci già Dovrebbe apparire ora Quando noi usciamo da qui O forse è già No mi sa che è già Parso E ce lo siamo perso Di brutto Mannaggia a me Che mi sono distratto A parlare delle mani Lui era qua dietro Era Però qui poi lui Lui si chiude E lui non c'è più Credo Posso provare a togliere Qualche pezzo Magari lo vediamo lo stesso Per esempio questo Eh no però Vedi che questo Si chiama Aggie Storage Scare Perché questo qui È la paura Che lui ti fa Avete capito? Che tu lo vedi Lo intravedi Ed è quella cosa lì Sto anche provando a clonarla Però è impossibile Se la distruggo Naturalmente No non si può neanche distruggere Eh si può distruggere Però sparisce tutto il blocco E sparisce anche Aggie Waggie Quindi l'abbiamo ucciso Una seconda volta Eh se vogliamo essere Bobo Se vogliamo essere fiscali L'abbiamo ammazzato due volte Già Va bene Buono così Buono così Andiamo avanti Che adesso c'è il momento In cui lo incontriamo E possiamo mettere in pratica Il nostro piano E poi Il momento finale Che secondo me è il migliore Dove noi prendiamo il suo corpo Che fa un po' schifo Come cosa Cioè nel senso Forse siamo Alla fine In questo genere di giochi Il vero mostro Siamo sempre noi Eh se ci pensate Perché A partire da Five Nights at Freddy's Che Chi mi segue da più tempo Ma proprio da tanto Se mi seguite ancora Un hashtag io c'ero Qua ci sta tutto Anche da Hello Neighbor Ma anche da Granny Cioè Allora Su Granny Noi gli entriamo in casa Gli rubiamo le robe Gli rompiamo le palle E l'ammazziamo pure A volte Quindi Siamo noi I malvagi Lei stava a casa sua Siamo noi Che siamo entrati Magari volevamo anche rubare È lei che ha ragione Eh Hello Neighbor Noi ci trasferiamo Siamo dei vicini Rumorosi Rompiballe Che rubano Che entrano in casa sua A rubare le cose A toccare le cose Chi è il cattivo lui No Siamo noi Palesemente Poi Su Aggy Waggy adesso Ma su Five Nights at Freddy's Ancora prima Queste Animatronics Vivono in questa pizzeria abbandonata Noi entriamo E li vogliamo rompere le palle Spegnerli E romperli Chi è il cattivo Vabbè lì ancora ancora Però Quelli erano assassini di brutto Eh Però qui No Ma qui non c'è il pavive No È perché tutto ha collegato Questa stanza Beh in teoria Noi dobbiamo rompere Anche questo pavimento Perché lui lì Credo che non cada Però ci proviamo Perché non lo so eh Non lo so Adotta un orfano Ma porca miseria Guarda Questa fabbrica Era pure una di quelle fabbriche Che si fa Si fa bella Con le azioni di benevolenza No tipo Ah si Devolvi anche tu Il 5% Delle tue spese Qui da noi Per i bambini poveri Quindi Volevano farsi apparire belli Poi in realtà producevano Giocattoli assassini Capito Facevano finta di essere buoni In realtà erano dei malvagi Poppy Playtime In particolare Si Convinciamo il mondo Che siamo bravi In realtà Distruggeremo tutto Faremo mangiare i bambini Dalle nostre creature Si Aghiwagis Tu mangerai più bambini Di tutti Sei pronto Si maestra Padrona Si In realtà È tutta una mostruosità Aspettate un attimo Opla Che bravo Cosa c'è lì Nel comignolo Di quella cosa Voglio vedere Aspettate eh Ah niente È chiuso Qua Che schifo L'interiora Di questa fabbrica pazza Ui Ingranaggio Eh mio dio Aspetta Sotto Non si vede niente Tutto buio Qua è però Potrebbe essere Un hack Per illuminare tutto Sai quante cose Avremmo visto Qua dentro Che è buio Come il Cuglio di un babuinos Niente Va bene Andiamo pronti Allora io farei una prova Farei una prima prova Allora Prima di tutto Dobbiamo accendere qua Poi Noi facciamo Passare Aghiwagis Una volta Vediamo se lui Cade da solo In quel pezzo Se lì non cade Perché lì è una Speciale di animazione Quindi magari non casca lì Allora noi Furbeschi Perché noi siamo Furbeschi Allora Gli rompiamo anche Questo pavimento E lo facciamo cadere Quando esce da qui Sembra l'idea perfetta Tra l'altro Noi possiamo anche Togliere questa porta Perché Cioè a noi Che ce ne frega No? To Cioè che ce ne impor Ma che ce frega E che ce importa Però non me la ricordavo Così sto corridoio Eh E mi sa che ho fatto danno Vabbè Io Con grande confidenza Vado proprio Sereno Che secondo me va bene Accelera un po' il gioco Qui giusto per avere Un po' più Forza con le cose Per due Per due va bene Per due Per due Dai le parti di questo Giocattolo brutto Il gatto patto Si chiama quello lì Aghi wagi Kissi missi Gatto patto È normale È normale Oppure Cat Fat 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 Però non è grasso È tipo un tigrotto Tiger Piger Bellissimo nome per un giocattolo Dovrebbero pagarmi per fare i nomi dei giocattoli Ne inventerei uno Dopo la Sembra anche un pochino Una fata però Perché ha le Le alette Quindi Feri anziana Perfetto Bellissimo nome Mi sembra Perfetto per lui Ok Ok lo prendo Aspetta un attimo Vieni qui da paparino Ok pronti Qui potrebbe succedere il male Cerchiamo di non fare danni Ok Meno male che non abbiamo rotto la Quella a fare lì Perché era un problema Allora qua si è materializzata la stanza Però il problema è io adesso Come avanzo Questo non l'avevo pensato Eh Sono un PZL Tra l'altro cade qualcosa Continuamente Io mi avvicino così E non accade nulla Perché qui non c'è il pavimento E questo è un problema bello grande È un problema bello grande Allora possiamo fare così Seleziono questo E lo metto qua Clona Ha funzionato? No Benissimo Ehm Posso glitcharmi nel muro? Per un attimo Giusto per attivare la La Aguagis Ah è così Sì Ok Uh uh No clip No clip No clip Madonna È caduto? No sta fluttuando nel nulla È un Zotsus Deba Però non era giusto Perché come hai fatto? Come hai fatto? Non era giusto Perché lì C'era il pavimento Che non c'era Come è possibile? Sei un Zotsus Sei un Zotsus Siberianus Come hai fatto? No no Zotsus 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 Maledettus Che non sei altrus Vabbè Ok va abbastanza bene però eh Dai adesso Adesso gli togliamo Anche l'altro pavimento Lo frego io Lo frego io Però dobbiamo stare in guardia Perché se rompiamo tutto Poi non riusciamo più Ad attivare la sua sequenza eh Noi dobbiamo anche andare avanti ragazzi Occhio Dobbiamo stare in guardia Perché io non voglio rompere il gioco Al punto di non Poter andare avanti Ok Oh il pavimento è tornato Perfectus Ok allora Eh Qui però è difficile eh Allora noi dobbiamo selezionare questo E romperlo Ok sono cadute un po' di cose Però Tutto sommato Non così grave C'è anche un tappetto dove noi possiamo andare Secondo me meglio di così Si muore Ah siamo pronti? Vai Non lo vedo Cosa succede? Non c'è Ma Si è rotto? Oddio No Dov'è? L'ho ammazzato Si è sentito un rumore ma non Aghiwagis No Aghiwagis dove No Aghiwagis non era il tuo momento Dove sei andato? Dov'è? Ma l'ho L'ho rotto di brutto Cosa Cosa ho fatto? Non c'è più Si sente la La cosa quindi lui dovrebbe esserci Non mi dire che togliendo il pavimento qua L'ho fatto cadere da prima di vederlo Dai ma io lo volevo vedere cadere Aghiwagis Dai non c'è neanche gusto a ammazzarti però così eh Ho sbagliato qualcosa Non è che non ho No perché il pupazzetto l'ho messo Lui doveva essere lì ma non c'è No Non ti puoi far ammazzare così Senza che io lo sappia Ma non c'è No oddio dove sono finito? Nel buio totale ero andato Secondo me A questo punto ci conviene provare ad andare avanti E tanto lui ricompare Perché da qui in poi lui ricompare E lo possiamo ammazzare dopo O almeno Burlarci del suo cadavere Cioè so che è brutto Però nel senso È Aghiwagis è un mostro Cioè non penso che si offenda Tipo qua lui appare Se noi smontiamo un pezzo di questo punto Eh guarda guarda Sozzo Pensavo ad averti ammazzato io Ma invece non sei Non muori mai eh L'erba cattiva non muore mai Se togliamo un pezzo di questo però C'è il rischio Che rompiamo il gioco No Vado avanti Vado avanti perché mi frega di brutto Però è brutto proprio eh Chissà se lo posso No ho sbagliato strada Vabbè Ci stava perché lui era lì Cioè del resto era in agguato Quindi Era normale Perché mi ha che passa È bellissimo No non è bellissimo È brutto proprio Secondo me è brutto proprio E poi qua che mi illumino d'immenso Io ogni volta guarda me la dovete spiegare Questa cosa qui eh Perché io non l'ho capito Però adesso Possiamo rivederlo Perché qua si è aggiustato tutto Dobbiamo rompere Ok Ho il piano Ho il piano Allora io vado qua No 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 Aspetta Prima Seleziono il pavimento Sono furbo io No Allora così Perfetto Poi Lo attiviamo Poi voliamo Eccolo Perfetto Allora lo attiriamo qua Molto bene Così Ok Poi noi voliamo E poi Distruggiamo Ah si è fermato sul tappeto Guarda col piedino Ah pensi che basta E invece non basta Zup Vediamolo che casca Zuka Sta cadendo verso l'oblio eh È scomparso È andato proprio Beh l'abbiamo L'abbiamo ucciso È morto Cioè è morto Per forza È mortissimo Più morto che vivo Sono sicuro che è ora Ricompare Però Però c'è ancora una cosa Che noi dobbiamo fare Allora attivo la modalità Immortale Però Sono anche convinto Di non averne bisogno Se E io vi lancio sempre La stessa sfida Riesco a completare Tutta la sequenza Senza morire Voi inserite nella vostra lista Di regali di Natale Il diario della fine del mondo Lo sapete no? Il libro che trovate in tutte le librerie Il nostro ultimo libro Bellissimo Vi assicuro che vi piacerà moltissimo Voi lo dovete mettere Nella lista di regali di Natale Ovviamente se vi fa piacere Ma io sono sicuro Che vi piacerà moltissimo In cambio del fatto Che io riesco a completare Tutta questa roba In una sola prova Oh guardate che Ok no Però non devo sbagliare Non devo sbagliare Devo essere Abilus Super Abilus Homo Abilis Guarda come sono Homo Abilis io Guarda che Homo Abilis incredibile Ok qua lui c'è Guarda bruttino Guarda bruttino Aprimi Zup Bruttino 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 Ma io bravino Sì Guarda senza Proprio sbagliarmi Eh Adesso dovete fare La vostra parte La lista di Babbo Natale E il diario La fine del mondo Opla Comunque è vero Lì c'era la mano Verde Ora se noi Lo seguiamo Mentre lui cade In teoria Dovremmo poterlo Acchiappare Questo è il corpo Di Aghi Che è bellissimo Cioè non è bellissimo Perché poverino È morto Però Dovrebbe essere Qua sotto Eccolo qui Aghi Waggis Fa vedere un po' Ebbè La prese Uddio Ebbè È morto bene Comunque Non è brutto Non più del solito In realtà Posso Non è selezionabile No Più da vicino No Perché No Io volevo clonarlo E farne tanti Potevo avere un esercito Di questi schifi Eh Hanno pensato a tutto Hanno pensato Non me vogliono fare Non mi vogliono dare Questa soddisfazione Non mi vogliono dare Ebbè Io lo posso guardare Da qui Sotto cosa c'è Ma quello non è un pezzo Di aghi Sarà un pezzo Di recinzione Delle robe Che si è portata Appresso Morendo Vabbè Bruttino Comunque Bruttino E bruttino Non si può dire niente Bruttino Vabbè Ci dobbiamo fermare così Il gioco La fine del gioco Ormai la conoscete a memoria Come me Aspettando il capitolo 2 Ci fermiamo qui Vi ricordo Che il diario La fine del mondo È questo Così Quando i vostri genitori Lo vedono Voi gli dite Questo mamma e papà Questo Nella lista dei regali Di quest'anno Per oggi ci fermiamo Mi raccomando Ricordatevi Noi siamo in live Alle 19 Questa sera Abbiamo riniziato La nuova vanilla E voi siete invitati Per oggi però Lion out